Da questa mattina un motopontone galleggiante è al lavoro alla foce del fiume Foglia per cominciare le operazioni di rimozione di 4.000 metri cubi di ghiaia sedimentati nel tratto terminale del corso d'acqua. Si tratta di un lavoro finanziato dalla Regione Marche, già annunciato il mese scorso ai nostri microfoni dal consigliere Nicola Baiocchi. Regione che ha investito 140.000 euro per dare una soluzione duratura ad una problematica cronica che si ripeteva con cadenza annuale, quella della foccia otturata da un tappo di detriti che di fatto rendeva impervi e pericolosa l'uscita mare delle circa 1.000 barche ormeggiate nel tratto fluviale. Una situazione aggravatasi dopo la rottura del corpo arginale avvenuta con il maltempo di gennaio. Da oggi è dunque al lavoro una chiatta con braccio meccanico che scava l'alveo dai sedimenti, ghiaia che verrà poi caricata su camione e trasportata in un deposito. I lavori si concluderanno entro il 29 giugno, nel frattempo la Capitaneria di Porto raccomanda la massima cautela e ridotta velocità nel percorrere la foce.